Dentro l'impianto vuoto regna il silenzio, fuori dai cancelli, a pochi passi queste catene rappresentano il disagio dei tanti lavoratori. Queste catene per noi rappresentano il nostro futuro perché siamo nelle condizioni di un disastro per noi e per le nostre famiglie. Questo è il settimo giorno che siamo qui a protestare sperando che l'azienda ci dà qualche notizia di positivo per il futuro perché andando avanti così non si sa dove andiamo a finire. Oggi per loro a Porto Empedocle è arrivato il segretario generale dell'UGL per rappresentare la vicinanza del sindacato e per fare il punto della situazione. Per stare insieme ai lavoratori e per capire insieme ai lavoratori quale strada si può intraprendere per la salvaguardia del sito produttivo di Porto Empedocle. È arrivata ieri la convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Noi diremo al Ministro che è arrivato il momento che devono prendersi le loro responsabilità, che lo sviluppo non va fatto solo a voce ma va fatto nei fatti. E lo sviluppo va fatto a partire dal sud, quindi dall'estremo sud, dalla Sicilia per salire sopra. Loro possono prendere impegni con l'azienda, possono dire alle aziende di restare aperti, possono dire che ci sono degli investimenti da fare. Il problema è capire bene come si comporterà il Ministero dello Sviluppo Economico al tavolo. Perché se è un tavolo tecnico, giusto per dire facciamo in cassa integrazione e poi lo stabilimento chiude, dire il vero, questo non è che serve molto, serve a prolungare l'agonia dei lavoratori per poi farli trovare in mezzo alla strada. Ai lavoratori non rimane che sperare e chiedere sempre più impegni ai politici, in particolare quelli eletti nell'agrigentino. Noi speriamo che i politici veramente ci aiutino perché siamo, diciamo, disperati, perché non sappiamo dove andare. Perché perdendo questo lavoro non c'è più altro da fare, perché abbiamo una certa d'acqua. Non è che siamo bambini, abbiamo 20 anni, 22 anni, magari andiamo all'estero, andiamo da altra parte a lavorare. Noi siamo persone, i più piccoli a 40, 42 anni, per cui non c'è niente da nessuna parte. Qui dobbiamo fare tutto il possibile che i politici a livello nazionale, a livello nazionale, che ci aiutano perché siamo distrutti. Quell'insegna che dominava la statale per loro rappresenta tanto tutta una vita ma anche un futuro oggi messo in crisi. Io lavoro qua da 22 anni. Io ho due figli all'università, che mantengono l'università a Palermo. E l'intracciamento per me era il futuro mio e della mia famiglia e dei miei figli, più quali altro. Ora vedo l'intracciamento, per come sono comportati, mi dà un senso di rancore verso la società. Speriamo in un accordo, in una marcia indietro della società. Siamo qua.